Oggi i napoletani festeggiano un santo per loro importantissimo, San Gennaro, patrono della città di Napoli, poiché si dice l'abbia salvata dalle pestilenze e dall'eruzione del Vesuvio. Fu il vescovo di Benevento, fu vescovo di Benevento, amato da cristiani pagani in quanto esercitava la carità nei confronti di tutti, credenti e non. Fu martirizzato sotto Diocleziano, celebra il rito della liquefazione del sangue che avviene tre volte l'anno. Guardiamo il brano di Vangelo di oggi. Il brano di Vangelo è continuazione di quello di ieri. Gesù dopo aver guarito il servo del centurione vediamo che addirittura riporta in vita un giovane, lo risuscita. Gesù risuscita il ragazzo toccando la barra e dicendo ragazzo dico a te alzati. A volte siamo morti pur essendo vivi e con una salute di ferro. Siamo morti quando? Quando siamo delusi della vita, quando pensiamo di non valere più nulla, quando siamo stufi di impegnarci a causa di delusioni, di critiche. Siamo morti nella fede quando la riduciamo ad un fare delle pratiche, senza metterci più amore. Siamo morti quando facciamo le cose giusto per farle, quando nulla più ci smuove, ci affascina, ci entusiasma, quando ci trasciniamo o quando peggio ci sentiamo sprofondare perché delusi, amareggiati, feriti dalla vita. Quando si muore sappiamo che il cuore cessa di pompare, di pompare il sangue e la circolazione si ferma. Il sangue è il simbolo di vita, scorre nelle nostre vene, la vita che scorre dentro di noi. A volte invece la vita non scorre, si addensa, si coagula come il sangue di San Gennaro quando non viene esposto ai fedeli. Chiediamoci oggi, ma in me scorre la vita? Che non vuol dire se io corro perennemente come un forsennato facendo mille cose in 24 ore, ma se ciò che faccio, e non importa quanto, mi fa sentire vivo, viva. Oppure faccio solo per fare, lavoro solo perché devo campare, perché devo arrivare a fine mese o alla meta della pensione. Oppure rientro a casa la sera ma in realtà il mio cuore è altrove e non c'è mai spazio per i miei familiari, sono sempre connesso altrove, col cellulare sempre in mano e non so stare con le persone che ho accanto. Oppure prego giusto per routine, o vivo la fede in modo stanco, ripetitivo. Se ci sentiamo un po' morti dentro, non spaventiamoci. Ogni tanto può accadere che in noi la vita si raggrumi, per diverse ragioni. Quando ci sentiamo morti dentro, non limitiamoci ad inventarci delle modalità differenti di svago, perché non bastano, ma occorre andare da Dio. L'unico che può rimetterci davvero in moto, che può rialzarci quando per mille ragioni siamo seduti, sfiancati, smorti. E' da tempo, e da parecchio tempo che parlando con la gente in tanti mi dicono di sentirsi stanchi, sfibrati, sfiniti. Forse non basta farsi un aperitivo con gli amici per ripigliarci, ma occorre spendere anche un attimo di tempo per farci un aperitivo con Dio. Buona giornata.